Ciao siamo gli Upsim di Milano e io sono Sara Ciao io sono Stefano e sono il chitarrista solista Ciao sono Riccardo e sono il bassista degli Upsim Ciao sono Matteo e sono il batterista Ciao sono K e suono la chitarra ritmica e le tastiere negli Absinthe Grazie a tutti